Ben ritrovati amici telespettatori. Torniamo con teleobiettivo a mettere a fuoco la situazione del Medio Oriente, anche perché le ultime notizie che sono riportate questa mattina dalle prime pagine dei quotidiani sono tutt'altro che confortanti. Per quanto riguarda l'aspettativa, la speranza di una riduzione dei tempi per arrivare ad un cessato il fuoco, ad un momento in cui le armi possano tacere, un momento in cui le popolazioni possano tornare a vivere in un clima di serenità senza la paura che le attanaglia. Infatti i quotidiani di oggi ci fanno capire che c'è stato un colloquio, una sorta di vertice telefonico che sostanzialmente lascia a Israele la possibilità di cominciare a colpire in maniera mirata il territorio dell'Iran. Vediamo dunque con il primo dei quotidiani che abbiamo scelto, il primo dei due quotidiani che danno maggiore risalto all'argomento, parliamo di avvenire, quello che è successo e quindi quello che potrebbe succedere. Avvenire in taglio alto titola Israele, ok all'attacco nel mirino siti militari, la risposta all'Iran. Lunga telefonata tra Biden e Netanyahu per discutere le modalità dell'attacco all'Iran. La linea è colpire i siti militari risparmiando quelli nucleari e petroliferi. Fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah con numerose vittime mentre i civili libanesi sono stretti nella morsa. Questo è dunque quello che leggiamo oggi in prima pagina sul quotidiano avvenire, ma anche il Corriere della Sera. In taglio medio riporta la stessa notizia. Netanyahu Biden, vertice al telefono, il piano per l'Iran e poi nell'occhiello guerra, l'ipotesi raid su siti militari. Colloquio telefonico fra Benjamin Netanyahu e Joe Biden alla presenza di Kamala Harris per parlare della risposta israeliana all'Iran. Nel piano discusso ci sarebbe il via libera a Tel Aviv per colpire le strutture militari di Teheran. Il ministro della difesa israeliano Gallant ha assicurato che l'attacco sarà letale, preciso e sorprendente. Quindi questo che abbiamo appena letto lascia intendere che ormai c'è quasi il via libera degli Stati Uniti a che Israele possa colpire l'Iran. Certamente colpire in maniera mirata, colpire in maniera come è stato anche scritto chirurgica, colpire solo i siti militari risparmiando quelli che sono alla base dell'economia mondiale, quelli petroliferi e anche quelli che sono alla base della sicurezza di tutta l'aria, quelli nucleari. Però il problema di fondo è che questa reazione di Israele contro Teheran, contro l'Iran, rischia di acuire, di rendere ancora più esplosiva la situazione in Medio Oriente, nonostante i vari aperli per la pace che si vanno ripetendo soprattutto da parte di Papa Francesco, che domenica scorsa durante l'Angelus ha ricordato che domenica si era alla vigilia di fatto dal primo anniversario dell'attacco che Papa Francesco ha definito terroristico contro la popolazione in Israele e leggo testualmente alla quale rinnovo la mia vicinanza, ha detto Papa Francesco domenica all'Angelus. Non dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza per i quali chiedo, ha detto Papa Francesco, l'immediata liberazione. Da quel giorno il Medio Oriente è precipitato in una sofferenza sempre più grave con azioni militari distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese. Questa popolazione sta soffrendo tantissimo a Gaza e negli altri territori, si tratta per lo più di civili innocenti, tutta gente che deve ricevere tutti gli aiuti umanitari necessari. Chiedo, ha detto ancora Papa Francesco domenica scorsa all'Angelus, chiedo un cessati fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano. Preghiamo per i libanesi, specialmente per gli abitanti del sud, costretti a lasciare i loro villaggi. Faccio appello, ha aggiunto Papa Francesco alla comunità internazionale, affinché si metta fine alla spirale della vendetta e non si ripetono più gli attacchi che possono far precipitare quella regione in una guerra ancora più grande. Ma sembra che appunto dalle notizie che abbiamo appena preso dei quotidiani di oggi si va in tutt'altra direzione, esattamente nella direzione opposta. Tutte le nazioni hanno il diritto di esistere in pace e sicurezza, ha detto ancora Papa Francesco, e i loro territori non devono essere attaccati e invasi. La sovranità deve essere rispettata e garantita dal dialogo e dalla pace, non dall'odio e dalla guerra. In questa situazione, ha detto ancora il Papa, è più che mai necessaria la preghiera. Papa Francesco non si è limitato soltanto domenica all'Angelus a invocare, a chiedere la preghiera. Egli stesso nel pomeriggio di domenica si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma e ha partecipato al Rosario per la pace che lui stesso ha voluto fosse recitato nella Basilica Vaticana di Santa Maria Maggiore. E durante il Rosario lui stesso ha invocato proprio l'aiuto materno di Maria per invocare da suo figlio il dono della pace. Ascoltiamo le parole del Papa. Oh Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fattiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci mancemmo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, oh Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio. Hai risposto a Lui con amore. Hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno delle esposti durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul cuore hai riscato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di Madre hai dato coraggio ai disceppoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti sopplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo, del tuo sguardo amorevole, che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio, Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dall'ingiustizia e devastati dalle guerre. Terci le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ritestaci, l'altro povero che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza. Perché se averi subito la profezia di Isaia, spezzeranno le loro spade e le faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana, che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra. Si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefessi, degli ammalati, degli afflitti. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio. Silenzia il rumore delle armi che generano morte. Spegni la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo ed irada le nuvi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà di mura il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi. Come vedete, il Papa, oltre a rivolgere continuamente appelli per la pace, rivolge un appello a chi può sciogliere la durezza dei cuori umani, soprattutto di coloro che hanno il potere di dirigere i passi della situazione del Medio Oriente nella direzione della pace o nella direzione di una escalation della violenza. Il Papa ha fatto appello proprio alla Madre di Dio affinché possa presso suo figlio arrivare a ottenere per quella terra che viene considerata santa anche dai cristiani il dono della pace. Ma noi vogliamo cercare di approfondire la situazione, vogliamo cercare di capire perché ancora non si riesce a ottenere la pace, perché soltanto il Papa continua ad invocare con forza il raggiungimento di questo obiettivo, la fine delle ostilità e soprattutto come si sta vivendo sul posto questa situazione che sembra essere destinata ad incrementare dalle ultime notizie che abbiamo appreso stamattina le prospettive di una guerra a tutto campo. Lo faremo tra poco, subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Quello che abbiamo letto questa mattina dalle prime pagine dei quotidiani ancora una volta sottolinea l'incapacità delle Nazioni Unite a svolgere il proprio ruolo. Le situazioni evidentemente vengono decise soltanto da pochi. Il Via Libera ha attacchi da parte di Israele all'Iran di fatto è stato concordato da questo vertice telefonico fra Netanyahu e Biden e questo appunto la dice lunga sul ruolo per il quale sono nate e che non riescono a svolgere le Nazioni Unite. Questo che abbiamo letto dice anche come restino inascoltati gli appelli che nella prima parte abbiamo ascoltato di Papa Francesco per la pace, per un cessate il fuoco. Ma noi vogliamo cercare di capire ancora di più, vogliamo cercare di capire anche con l'ausilio di chi vive sul posto, con chi vive in terra santa. Il 28 settembre scorso si è svolto proprio qui a San Giovanni Rotondo un seminario organizzato dal distretto del Rotary International di Puglia e Basilicata un simposio, un vertice, una tavola rotonda sul tema la pace e armonia. E dal Patriarcato di Gerusalemme sono arrivati due inviati del Patriarca Latino del Cardinale Pier Battista Pizzaballa. Uno di questi due inviati, un sacerdote è Don Ibrahim Shomaci che è direttore spirituale della scuola di Raenè il quale ha proprio fatto capire attraverso una testimonianza diretta, personale quello che si vive in terra santa in questo momento, in questo periodo particolare. Ascoltiamo la prima parte della sua testimonianza. Sono palestinese al 100% e di sangue perché è nato in quella zona ma ora sono parroco a Rene vicino Nazareth in Israele tutti i miei parrocchiani sono arabi, cristiani certamente ma hanno il passaporto israeliano tutti sono israeliani e l'altro sabato, sabato scorso e anche lunedì e martedì ho vissuto una difficile situazione vedendo le foto delle case dei miei parrocchiani distrutte, le macchine distrutte a causa dei missili che sono arrivati dal sud Libano interaccettati da parte di Israele sono caduto sulla mia parrocchia questa situazione è il nostro pane quotidiano questo è il nostro pane quotidiano immaginate le tonnellate di TNT di missili caduti su Gaza un missile o un Patriot costa più di un milione chiediamo all'America al posto di dare queste armi di dare questi milioni ai poveri risolviamo tutti i problemi entrare nei dettagli vuol dire essere qua fino all'anno prossimo perché il pane quotidiano viverlo non è facile e non è facile per niente solo per dirvi un esempio che ha accennato il mio cardinale patriarca Pizzaballa su i vivere a Gaza per mandare il cibo a Gaza che cosa si può fare? dobbiamo comprare il cibo da mercanti speciali se no israeliani non lo fanno entrare dunque un traffico di soldi farlo entrare a Gaza bisogna anche avere il parere di Hamas e pagarla per farlo entrare se no sarà preso e rubato dunque tutta questa guerra non è una vera guerra ma solo un traffico di soldi un traffico di armi e le vittime sono i bambini e le donne e povera gente per questo il nostro grido sarà cessate il fuoco cessate il fuoco cessate il fuoco vogliamo vivere vogliamo vivere vogliamo vivere in pace come si fa questa pace? io da bambino quando sono nato cresciuto non ho mai incontrato un israeliano normale tutti gli israeliani che incontro sono soldati con la mitra vicino al muro su un checkpoint che ci impediscono di entrare nello stesso tempo il bambino israeliano non ha mai incontrato un palestinese normale tutti i palestinesi che incontra sono gente che vuole ammazzarlo che vuole farlo uscire non ha avuto la possibilità di incontrare un palestinese normale come me neanche io ho avuto l'opportunità di incontrare un israeliano normale come lui e di questi ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno di gente normale di incontrarsi e di creare un'atmosfera un'armonia di pace per tutti noi c'è un dato di fondo che emerge da questa prima parte della testimonianza di Don Ibrahim lo ripetiamo inviato del patriarca di Gerusalemme il cardinale Pier Battista Pizzaballa a questo seminario sulla pace che si è svolto a San Giovanni Rotondo il 28 settembre scorso e cioè la necessità da parte della popolazione di uscire da questo tunnel della paura da questo tunnel del rischio continuo che un missile possa cadere sull'abitazione sulla scuola sull'asilo in cui si è in quel momento sull'ospedale in cui si è in quel momento e distruggere la propria vita quella dei propri cari quelle delle persone che condividono in quel momento la stessa posizione geografica c'è la voglia di una vita normale da parte dei palestinesi di vedere degli israeliani normali non in abito militare e con le armi in braccio viceversa quella degli israeliani di vedere un palestinese normale non un soldato palestinese alcuni bambini hanno avuto dell'altra popolazione un'idea soltanto militarizzata questo è dunque lo stato d'animo della popolazione la popolazione non vuole la guerra la popolazione è la principale vittima delle guerre le guerre sono decise ad alto livello sono decise da pochi individui paradossalmente da quelli che rischiano di meno da quelli che rischiano probabilmente quasi niente durante le guerre ma ascoltiamo la seconda parte di questa testimonianza di Don Ibrahim Shomaci un diputato del Parlamento che ho incontrato due settimane fa arabo nel Kineset israeliano e con Gantz che era presente nel governo di guerra israeliano ma ha lasciato stanno provando di trovare un milione di arabi palestinesi per la pace e un milione di ebrei di israeliani per la pace abbiamo dato tutto il nostro appoggio a loro di fare questo lavoro e di andare avanti in questo speriamo che riusciranno ma tutte le notizie che verranno in questi giorni tutti non vogliono sentire queste voci vogliono sentire solo le voci delle bombe per loro è una musica molto bella ma per noi una malattia peggio del tumore in Cisjordania la mancanza di lavoro mancanza di permessi nessuno può entrare a vedere i luoghi santi entrare a Gerusalemme trovare trovare pace in questi luoghi importanti è difficile per noi per voi è molto facile prendete l'aereo andate e potete fare quello che volete mentre per il nostro palestinese è impossibile prendere la macchina andare arrivare fino al santo sepolcro per pregare per vedere questi luoghi santi concludo qua in tre parole che cosa possiamo fare e che cosa dobbiamo fare noi vi darò tre parole le tre parole iniziano con la lettera P la prima cosa è preghiera ho detto all'inizio la pace sarà un miracolo chiediamo al Padre Pio in questa Santa Messa di oggi di mandarci questa pace e per questo bisogna stancare Padre Pio stancare il Signore con la nostra stancare la Madonna con la nostra preghiera perché arriva la pace perché se il Signore stesso non cambia la mentalità dei capi politici siano israeliani palestinesi ma anche in tutto il mondo non arriveremo mai a una pace vera e duratura e giusta soprattutto il secondo P sarà i pellegrinaggi non lasciateci soli non lasciateci soli Gesù sul Carvario è rimasto solo e con Lui erano due persone Giovanni e Maria il vostro compito cristiani d'Italia cristiani dell'Europa anche voi rotariani voi siete dovrete essere la Maria e Giovanni per questa comunità cristiana perché noi stiamo forse pagando le tasse che abbiamo ucciso Gesù duemila anni fa ma Lui è risorto e ci aiuterà a risorgere con il vostro appoggio con i vostri pellegrinaggi con il vostro aiuto e vi aspettiamo l'anno prossimo a Gerusalemme il terzo pi lo state già facendo e continuate a farlo progetti il progetto per le scuole cristiane della Terra Santa è iniziato in un'investitura dei cavalieri del Santo Sepolcro quando Vito Casarano mi ha visto dicendo vorrei fare questo progetto ho detto va bene ti metto in contatto con il direttore generale delle scuole in Palestina qua presente e realizziamo questo progetto questo era un sogno un sogno ma un sogno oggi è realizzato grazie a voi grazie al vostro appoggio grazie a Vito grazie a Saverio veramente grazie per i progetti ma continuate non fermatevi qua bisogna andare avanti ho visto anche i progetti fatti in Africa per i medici per i medici per la povera per le povere donne per la povera gente andate avanti andate avanti questi progetti saranno messaggi di pace e realizzeranno una pace vera e duratura e giusta grazie mille a tutti voi siamo noi che diciamo grazie a Don Ibrain Shomali per questa sua testimonianza che ci ha fatto capire come si vive in Terra Santa in questo momento in questo periodo e cosa si può fare per la pace anche lui ha ribadito che ciascuno di noi se non altro con la preghiera in questo momento perché poi c'è la possibilità anche di aiutare la Terra Santa quando la guerra sarà finita per la ricostruzione ma in questo momento tutti ciascuno anche nella sua casa può dare il suo contributo per la pace attraverso la preghiera ce l'ha detto il Papa ce l'ha ribadito Don Ibrain in questo intervento grazie per averci seguito restituiamo la linea alla regia per la programmazione che continua su Padre Pio TV grazie per aver guardato